E benvenuti per questa nuova gameplay di Trenciao alla mia amica Può fare la manca di bar Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questa Per farvi vedere la demo del gioco della EA Sports che ha fatto Gragix Oh, ciao, benvenuto nella demo del videogioco della EA Sports Sono io e Cameron, quindi scusate se si vedrà un po' mosso Eh, va beh, capita Per cominciare, apri il forzire Fai il cazzo di forzire Questo qua, cazzo Oh, Gesù, sembra quello dei Pokémon Vive i Pokémon, sempre No, a me invece sembra Snake Questo dovrei essere Allora, mettiamo lo zoom su di te Meraviglioso Senti che musica ispiratrice Vedi, questo è l'attacco con la spadina Evita di muoverti veloce mentre non ti seguo Prendi tutto lo schermo, dai Le devi distruggere con la spadina Devo mettermi così Se qua c'è un altro forzire L'arco L'arco, però Mancano le frecce Che genio Ti servono delle frecce Capitano Ovvio Oh, ecco le frecce Acquisite frecce Saltella come un deficiente Quindi con le frecce bisogna azionare Questo corso Beh, carino Sì, dai Oh, altro forzire Senti che musica Le bombe Tecnologico Eh, hai visto? Perché ci saranno un sacco di armi in più poi nella versione Tipo? Perché questa è la demo Tipo delle pistole H-47 Sì, anche Davvero? Può darsi, sì Vedi che effetti speciali 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 Oh Questi cosi ti danno poi dei poteri speciali Tipo questo ti fa prendere il fuoco Quindi Che si usa con la D Con la lettera D Madonna Fighissimo Eh Allora Ok Altre frecce Qua devo cambiare Sì, un pochino l'ho imparato adesso Altre bombe Oh, cazzo Vabbè, comunque Con questi cosi ti Torna anche la vita E i punti magia Vedi? 99 99 Fuoco Carino, insomma Dai Poi ci saranno un sacco di cose in più Tipo le vocazioni Le vocazioni Invocazioni Evocazioni Ah Le invocazioni le farò io quando bestemmierò Perché non riesco ad andare avanti Questi sono dei mostricciattoli bluaste Con l'acquisto dell'esperienza Poi impari a fare più cose Se non sbaglio C'è un classico gioco di ruolo Che si può vedere un po' ovunque Questo coso Hai imparato la magia a tuono Musica ispiratrice Non c'è sempre Per il tuono Abbiate paura del tuono Sì, questi funghetti Che ricordano tanto Quelli di Super Mario Poi nella versione Per quella finale Ci sarà anche Volpe Martel Come personaggio selezionabile Ci staranno anche altre cose Del tipo Del tipo Vabbè ci saranno tante altre cose Ok Sto coso non so a cosa serve Hai imparato la magia a cura Ah, questa serve Ti autocuri? Sì Mettiamo intanto un bar Un'altra treba Qua si piazzano delle pombe Su questo scorpione Per farlo uccidere Perché è l'unico modo Da quello che ho capito Oh, la musica non sembra quella di Lupin No Per niente Beh, un po', dai Oh, sticosimo Ah, sì Ha imparato la magia a tornado Qua dobbiamo per forza selezionarlo E usarlo qua Così, ecco Si libera la strada E, oh, cacchio Schiattate, maledetti Uh, vedi, si sale di livello Ah, level up Level up Hai acquistato il boomerang Che figata Uh Vedi, poi, questo cos'è Mi è entrato, il mio braccio si è addormentato Vabbè, dai, voglio mettere su Tanto manca poco Questo cos'è Magia, magia, rigi, rigi, rigi Vabbè, quella roba lì Oh, scudo di bronzo Con zeta Perché per super Oh, si bisogna Ah, cacchio Ah, cazzo Deciditi Non è colpa mia Vedi, non va giù Puttana, Eva Allora, aspetta Forse mi devo mettere Con la zeta Dov'è qua? Vedi? Oh, cazzo Ecco, ho preso Ascia di bronzo Che figata La zeta dov'è? Ecco, sono morto Ho visto? Ah, ah Grazie E quindi un po' è questa la demo Poi alla fine c'è un boss finale Che vi lasciamo scoprire A voi, ragazzi Vedete, game over Tipo Resident Evil Oh E... Però vorrevo chiedere a Gragix Gragix Se poi ci mette sotto game over Ah, ah Beh, sì Poi ci saranno anche le nostre voci Forse per il doppiaggio Ah Sì, sì Ci presteremo anche al doppiaggio Di noi stessi Mi sento un uomo realizzato per questo Beh, potevamo fare il contrario Cioè, io doppio te E tu doppio Sì, dai Si può fare Ci saranno molte cose inerenti videogame Tipo dei personaggi da evocare Come dicevo prima Perché chi se ne intende di RPG Saprà di che cosa parlo io Siccome li ho sempre snobbati Non più di tanto Solo quello che mi ha sfigato Io ho avuto solo quello Pokémon Zaffiro Che figata No, una merda Voglio Pikachu Voglio Pikachu Tra i personaggi Comunque Noi vi salutiamo E Non possiamo che postarvi qua sotto Il link Per Acquistare Per prendere la demo Dovete È gratis È gratis Approfittatene Il videogioco poi sarà pagamento Quindi ragazzi Leggete i ritmi Quando prendete il file Perché dovete avere Winrar Mi raccomando Come l'ho detto Cazzo Lo so Io con l'aira in motion Non si sarà capito un cazzo Winrar Quella roba lì Quindi Che c'è Non si vede un cazzo La luce Fa male agli occhi E niente Quindi ragazzi Ci vediamo Per la prossima gameplay O stronzata varia Un ciao da Bale93ba Evolp Cazzo di rede Evolp Metter Wow Aua Chakbas